L'oceano copre i due terzi della superficie terrestre e ospita le creature più incredibili che si hanno mai vissute. Possono essere considerate le creature più importanti dell'oceano. Sono loro che regolano la vita nel mondo sottomarino. Gli più amichevole, pericolosi ed enormi. L'universo infinito delle profondità marine è la loro casa. Qui vivono in famiglie, socializzano e si fanno strada in un vasto spazio. Per saperne di più su di loro, andremo nel loro mondo. Ciao! Sono i dominatori dei mari